Un'immensa area verde immersa nel suo paradisiaco silenzio. La valle che circonda la piccola Riceci sembra uno stato d'animo più che un luogo, uno di quegli spazi rimasti fermi nel tempo. E per essere raggiunto occorre seguire uno di quei sentieri imbrecciati che solo nel naturale entroterra dell'Italia centrale si ha la fortuna di incontrare. Fattori imprescindibili che sommandosi all'impatto ambientale che potrebbe provocare hanno allarmato diversi cittadini della zona a schierarsi contro la costruzione della discarica di Riceci. Un impianto per lo smaltimento di rifiuti delle aziende che andrebbe ad occupare 44 ettari di terreno agricolo, generando una netta spaccatura tra passato, presente e futuro da diversi punti di vista, ambientale, culturale e turistico. La presentazione del progetto denominato La Battista, che vede a capo Marche Multiservizi e Aurora SRL, è avvenuta nella primavera del 2023, ma le prime voci su una paventata discarica già circolavano da un anno prima. Segnali che hanno subito allarmato i residenti della zona, che per similitudine di progetto si sono accorpati all'associazione diversamente, contraria alla costruzione del biodigestore di Talacchio. Io personalmente ho sentito le prime voci intorno a gennaio-febbraio 2022. Erano voci che teoricamente non dovevano esistere, perché nessuno sapeva niente, nessuno aveva mai sentito nominare progetti, e quindi i diretti interessati, agricoltori e comunque residenti di riceci, vociferavano di questi presunti acquisti o tentativi di acquisti. Subito ho allarmato chi poteva allarmare, ho iniziato a divulgare sui social messaggi equivoci, si vocifera che parrebbe che... Un altro megaprogetto è apparso dal nulla, stessa storia e anche stessi attori del digestore, nel caso della discarica di riceci. Cito i due progetti perché ci sono molte analogie. Il fatto è che entrambi i progetti siano sovradimensionati per l'ambito, che questi progetti nascano fuori dalla pianificazione, dalla programmazione pubblica. Pensiamo, di gestore anaerobico parliamo di 105.000 tonnellate annue, nel caso della discarica 200.000 tonnellate annue. Ma oltre a questo pensiamo alla durata di questi progetti, sono progetti che impatteranno i nostri territori per oltre 25 anni. Nel caso della discarica il periodo di attività è quello di 25 anni, poi c'è la fase post-mortem. Complessivamente nel caso della discarica di riceci parliamo di qualcosa come 5 milioni di metri cubi, rapportando un metro cubo a una tonnellata, 5 milioni di tonnellate di rifiuti. Pensiamo agli impatti del traffico. Nel caso della digestione anaerobica di quel progetto, oltre 18.000 camion di rifiuti anno. In questo caso, della discarica di riceci, oltre 28.000. Quindi complessivamente in un'area ristretta dove noi viviamo, pensano di portare qualcosa come 46-47.000 camion all'anno di rifiuti. Il progetto di Aurora SRL, vista la concessione dei terreni, prevederebbe alcune opere compensative per il territorio interessato. Dalla bonifica della vecchia discarica di circa 7 ettari, alla ristrutturazione della chiesa di San Giovanni Battista di riceci, risalente al 1700, sconsacrate e abbandonata, fino alla costruzione di una biblioteca multimediale a Gallo di Petriano. Tutti interventi che infastidiscono ulteriormente chi è contrario. Manca la pianificazione pubblica, manca la programmazione. C'è semplicemente una fortissima speculazione e un solo unico fine, che è quello di fare utili attraverso la gestione dei rifiuti. Pensiamo a chi ha fatto investimenti in questi territori dal punto di vista turistico. Vedrebbe dalla sera alla mattina scomparire tutto. I sogni di una vita. Marche Multiservizi ha una maggioranza pubblica, 53%, costituita da 55 sindaci, due comunità montane più la provincia. Noi ci chiediamo come cittadini come è possibile che nessuno sappia mai niente. Ricci ha detto all'interno dell'assemblea dei soci di Marche Multiservizi che non è possibile farlo perché ci sono le elezioni. Noi riteniamo che le ragioni siano molto più ampie e molto più gravi dell'impatto elettorale. Devono essere prese posizioni chiare a tutela dei territori e a tutela dei cittadini. Quindi chiediamo che venga ritirato questo progetto perché non vogliamo svegliarci poi nel 2024 e capire che questo ipotetico piano B, questa toppa, è poi peggio del buco che hanno creato. Sul piano B si sofferma anche l'assessore all'ambiente del comune di Montelabate, Ferraro, che attraverso un comunicato intravede la sola possibilità di individuare un'area all'interno di zone industriali e di dimensioni ridotte che significerebbe pochi anni di sfruttamento.